Il Villa Biagio non conosce emergenza, non conosce soste, batte anche il Sansepolcro e vola da solo in vetta alla classifica 1-4-1 che condanna i biturgenzi alla seconda sconfitta di fila con due soli punti totalizzati nelle ultime cinque gare. Emergenza perché Cocciari si ritrova con un centrocampo assolutamente da inventare senza gli infortunati Gramaccia, Goretti, Ubaldi e Pettinelli con Rinaldi che parte in panchina. Il 4-3-1-2 del Villa Biagio vede così in campo Kikri fra i pali, Lucaroni, Cangi, Cenerini e Vergaini in difesa, Curti adattato in mediana insieme a Rondoni e Trequattrini con Montanucci trequartista alle spalle di Cardarelli e Brunori. Nel Sansepolcro Auti, Giovanni Massai, Bianchini, Giovacchini e Carbonaro con Schenardi che fa partire dalla panchina Adamo e Mortaro e disegna un 4-3-1-2 con David in porta, Catacchini, Piccinelli, Bonfini e Pilleri nel reparto arretrato, Fabri, Didi e Mattia a centrocampo con Mencai alle spalle di Parodi e Macagno. 6 minuti e il Villa Biagio suona il primo squillo con Trequattrini che costringe David alla deviazione in angolo. Il Sansepolcro repica con la rovesciata di Macagno controllata dall'ex di turno Kikri. Ci prova anche Parodi con Kikri sempre attento e il Villa Biagio chiede un tocco di mano. Guai però a svegliare Brunori che dorme, minuto 31, il puntero del Villa Biagio scheggia così il palo. Prove del gol che arriva al 36esimo quando Trequattrini su uno schema da calcio piazzato cerca e trova Brunori, bruciato Dida sul corto, missile ad incrociare Villa Biagio sull'1-0. Il Sansepolcro prova a reagire con Mencai che sfiora la traversa e con l'ex di turno Mattia che si fa vedere dalla distanza. Nell'intervallo Schenardi toglie Dida ed inserisce Birsen nella difesa 4 con Catacchini che si alza in mediana e Mattia da vertice basso nei tre di centrocampo. E dopo 30 secondi della ripresa Parodi sguscia e centra all'esterno della rete prima che Montanucci di fatto chiuda la gara con questo Euro-goal che strappa gli applausi del Vestrelli e porta il Villa Biagio sul 2-0 al minuto 48. Schenardi alza il baricentro con Mortaro dentro per Piccinelli ma in gol ci va ancora il Villa Biagio con Brunori. Gran parte del merito però è ancora del classe 99 Montanucci che semina il panico e poi serve un assist al bacio a Brunori. Finita qui? No perché al 76esimo Canji deve immolarsi su Parodi, poi Brunori spreca l'impossibile a tu per tu con David. Tre minuti però e Brunori si fa perdonare dopo uno scambio delizioso con il neo entrato Bevilacqua. Minuto 79 Villa Biagio sul 4-0 e tripletta personale per Matteo Brunori. Nel finale c'è tempo anche per la traversa di Mortaro e per il gol della bandiera firmato da Parodi al minuto 87. È il momento delle riflessioni per il Sansepolcro mentre il Villa Biagio sogna ad occhi aperti. Marco Schianardi due punti nelle ultime cinque a far riflettere però anche il passivo oggi, un 4-1 contro Villa Biagio. Non posso dire niente, i numeri sono per noi impietosi. La squadra ci ha messo grande voglia, grande determinazione. Mi ha fatto secondo me un ottimo primo tempo però dopo ci squagliamo. Continuiamo a subire dei gol a difesa schierata e così diventa difficile se giriamo a 3-4 gol a partita. È difficile poter pensare di poter fare il risultato. Sì, ripeto, ci sono delle situazioni e delle prestazioni che vanno al di là della normalità. Di questo siamo estremamente contenti perché poi alla fine portano risultati, portano tranquillità, portano autostima. Quando c'è entusiasmo si lavora sicuramente molto meglio. Abbiamo molti giovani, hanno bisogno di entusiasmo. L'entusiasmo lo puoi creare solo con dei risultati. Noi stiamo facendo questo e ci guardiamo il momento ma con molta intelligenza.